Siamo con Valeria Vanossi che ringraziamo per essere venuta per aver accolto il nostro invito Valeria Vanossi non è mai ferma con la sua associazione il sole nel cuore sta movimentando tutta la piazza qui accanto a noi Valeria dove state andando? Andiamo a Milano non è che andiamo tantissimo lontano però andiamo al terzo reparto mobile della Polizia di Stato dove ospiteranno i miei splendidi ragazzi tu sai benissimo come la penso sulla disabilità cioè io voglio fargli provare tutte le esperienze di questo mondo perché spesso e volentieri sono solo facciate ma in realtà questi ragazzi hanno bisogno di essere caricati motivati e far capire anche perché il sole nel cuore è un'associazione riferita al mondo della disabilità ma un mondo non passivo ma come tu dici sempre attivo. Sì diciamo che il nostro fiorelocchiello è la disabilità ma come ben tu sai la nostra associazione ha tante branchie no aiutiamo tantissima gente laddove c'è bisogno non ci siamo oggi ho avuto una richiesta da parte di una scuola ad esempio per un'assistenza e dunque noi lo faremo perché purtroppo le ore vengono sempre a mancare da parte diciamo delle istituzioni e ovviamente noi andiamo a sopperire quello che le istituzioni non arrivano a fare. Ecco la tua associazione cosa raggruppa persone giovani anziane? Guarda noi accettiamo tutte le persone di buona volontà io ho sempre sostenuto io da quando avevo 13 anni faccio volontariato dunque credo arrivata a 59 anni ne ho di bagaglio alle spalle credo che ognuno di noi possa dare qualsiasi del suo tempo può dare un qualcosa l'anziano può rendersi utile per tante cose cioè per me non deve essere immarginato nessuno e ci sono solo due categorie di volontariato chi ce l'ha nel dna e chi purtroppo per casi della vita è stato colpito magari da un qualcosa da una malattia e allora si dedica a quelle associazioni che non so magari sul cancro piuttosto che sulla distrofia muscolare eccetera e dunque sono solo le due categorie questo è il mio pensiero personale ovvio. In questi tre giorni cosa farete a Milano con la polizia di stato giusto? Sì allora il terzo reparto mobile di Milano che entriamo in una caserma dove ci sono 500 poliziotti e lì ci sono diverse branche no e devo dire comunque che ci sono arrivata grazie alla dirigente dottor Francesco Anelli esatto che è un nostro carissimo amico è una persona straordinaria e dunque grazie a lui pian piano noi abbiamo conosciuto questo terzo reparto mobile noi andremo lì e faremo delle attività insieme alla polizia dunque i ragazzi faranno tutte le attività. Per quanti giorni? Praticamente torniamo domenica però non posso svelare una bellissima sorpresa che il comandante del terzo reparto mobile Caccianini il dottor Caccianini farà ai ragazzi. Loro saranno convinti di tornare a casa dopo il pranzo della domenica ma in realtà la direzione sarà un'altra e poi ve lo sveleremo sicuramente. Una sorpresa per tutti insomma. Per tutti sì perché alcuni ragazzi non hanno mai vissuto quello che andremo a vedere e dunque sono contentissima veramente. Abbiamo mosso il mondo perché in realtà l'autorizzazione è dovuta venire anche da Roma cioè nonostante il colonnello Caccianini ovviamente voleva ospitare la nostra associazione ma l'autorizzazione è arrivata da Roma dunque vuol dire che la polizia di stato è molto sensibile a queste problematiche. È già pronto il campo anche per giugno o per settembre? Che programmi hai? Quello di settembre è già pronto. Non è giugno è settembre. Quello di settembre sì poi ci sarà l'ospedale in piazza la settimana dopo però abbiamo già programmato anche quello ed è ben nutrito come programma. Sempre le rodari, cambi location? No sempre le rodari perché comunque ci ospitano molto volentieri laddove ci ospitano noi andiamo volentieri insomma. Benissimo allora auguri per questa nuova data volevi dire? No no volevo semplicemente dire che ringrazio le Niano News perché è molto importante il vostro supporto perché non tutte a volte le testate giornalisti che seguono il sociale. Grazie a voi noi riusciamo anche ad aiutare tante famiglie perché con gli articoli che voi fate sulla nostra associazione ci chiamano e noi aiutiamo e grazie anche a voi per cui in questo caso anche voi aiutate queste famiglie. è sempre stato un po' nel nostro DNA non quello di non fare il lavoro degli altri di mettere in evidenza alcune eccellenze come può essere il mondo del volontariato. Noi abbiamo anche lo spazio che tanti giornali cartacei non possono avere e cerchiamo di sfruttarlo in questa direzione. Comunque grazie anche a te. Buon viaggio buon viaggio. Ciao a tutti alla prossima.